Buongiorno, sono Marco di CSA. Stai pensando di rinnovare il tuo parco veicolare? Ma comprati un usato! Ad esempio abbiamo questi due trattori DAF XF. Fai un lavoro di distribuzione oppure di lunga percorrenza? Inevedere come è ben tenuto questo 530 con pochi chilometri. Fai un lavoro di approccio cantiere? Devi agganciare una vasca o un carrellone? Questa è una buona soluzione. Cambio manuale e retarder e impianto idraulico. Fai un lavoro di lunga percorrenza. Sono Marco, vi aspetto per darvi tutte le informazioni sul nostro parco usato e vi auguro una buona stacca!